Musica Ciao a tutti ragazzi io sono lori e ben ritornato alla top 5 playlist of the week ovvero la top 5 composta dalle vostre migliori clip che ci invidiate tutte le settimane che stanno vedendo Questa top 5 è gentilmente sponsorizzata da Opacitalia, link è info in descrizione Adesso partiamo subito con la quinta posizione che ce la porta Perrotz E si trova su Advanced Warfare, su Recovery, una clip abbastanza particolare Infatti non si trova nelle classiche modalità ma bensì su Infetto E ci porta una killcam in trickshot con il drone tagliente Giusto per concludere la sua partita nel miglior dei modi, nel modo più truso possibile Ci tira un drone togliente facendo un trickshot in aria, mai visto una killcam simile in Infetto Alla quarta posizione troviamo Gabriele che invece si trova su Nuketown Tira il C4, prende la prima kill allo Scaraka nelle sue mani Si avvicina verso la casetta blu di Nuketown Tira un altro C4, distrugge una scossa elettrica Viene la sua sinistra, il nemico lo prende, continua a mirare Prende una doppia, decide di entrare dentro la casa e di mirarlo Spawn fa una quadrupla assurda Qualcuno lo fermi, si gira, ne prende un altro Si gira ancora, ne prende un altro E forse la clip è finita ragazzi Ha preso il Vsat, adesso c'è l'ultima kill qua E tira pure l'amp e ha fatto una vera strage Alla terza posizione troviamo Sharks, Perrotz, scusami per la pronuncia, il nome che si trova anche lui su Advanced Warfare con il server bullet E ci porta un trickshot assurdo, dovrebbe essere un 1440, no scupa, cross the map, una roba veramente spettacolare Alla seconda posizione invece troviamo Rex Odess che si trova con l'XPR ma prima di utilizzarlo fa una quintupla di granata E poi utilizza pure il suo check-in e ci fa una doppia hatched per concludere la sua clip Ringraziamo ancora Rex Odess che ci ha inviato tantissimi clip, l'avete visto anche nella scorsa top Alla prima posizione invece troviamo Karma J che ci fa concludere questa top con un bellissimo quad hatched preso con l'OSR su un Ghost su Octane ragazzi Veramente una bellissima clip, come vi ripeto mi faccio aiutare da Retentive per la scelta delle posizioni E a lui piacciono tantissimo le quad hatched, quindi un'altra volta è arrivata in prima posizione una quad hatched Io spero che la top vi sia piaciuta, se è così vi interessa non mi piace, commentate, iscrivetevi se non è stato ancora Passate la prossima Facebook, quindi ragazzi ho finito, ciao a tutti Quando arrivo devi farmi passare